Un teledurruti dopo scuola, Fulvio Abate. Oggi parliamo di Robert Brasillac, uno scrittore francese, era nato nel 1909 e morirà nel 1945, fucilato per alto tradimento. Uno scrittore francese collaborazionista, nel senso che Brasillac immaginava un fascismo francese, immaginava un'alleanza con la Germania nazionalsocialista. È molto facile parlare di Céline, Louis Ferdinand Céline, che è unanimemente riconosciuto come uno dei più straordinari narratori del Novecento. E' un po' più complicato cercare di spiegare il dissimile, l'attenzione verso ciò che è altro da te, il dissimile appunto. E noi per farlo prendiamo esempio dal caso di Robert Brasillac, che come dicevo prima, era uno scrittore fascista francese, vicino al nazionalsocialismo, scrittore, giornalista, sulla stampa di destra francese degli anni Trenta, citiamo il caso di un giornale che si chiamava «Je suis partout, io sono dovunque». E Brasillac finirà fucilato le domande di grazia, la richiesta di grazia, che giungerà da scrittori vicini all'esistenza, come François Mauriac, dallo stesso Albert Camus, non troveranno ascolto presso l'Alta Corte di Giustizia. E lo stesso Denard de Gaulle non darà retta a questi appelli. Robert Brasillac è il figlio di una Francia borghese, basterebbe citare il liceo dove, 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 il liceo Louis-le-Grand, che si trova a Parigi, in Boulevard Saint-Michel, così come la frequentazione dell'école normale superiore, la vicinanza con l'Action Française, che è stata, che fu un'organizzazione di estrema destra. quella Francia che non si vorrà mai rassegnare al pensiero del bolshevismo che giungeva attraverso i pugni chiusi del fronte popolare. Brasillac, lo dicevo prima, sarebbe fin troppo facile parlare di Céline e dell'umanesimo delirante di Céline, della sua vocazione all'invettiva. Brasillac accadeva che nel fascismo si trovasse il giglio della poesia. Voglio leggere alcuni suoi versi, sono poesie del, in questo caso, del 1929. Lo diceva Brasillac, verrà fucilato a Fresn, a Montrouges, nel forte di Montrouges, il 6 febbraio del 1945. Paradossalmente, questo volume che raccoglie gli scritti di Brasillac fu curato da Giorgio Almirante e pubblicato nel 79 da Ciarrapico, editor. Questi versi di Brasillac sono la felicità. Bisogna amare la felicità prima di tutto, l'acqua che fruscia sotto il vento, il grappolo rosato e quella pesca di agosto che un angelo porta al bambino. Bisogna amare la paura nei corridoi, i quaderni con la scimmia e l'orso, il prato con i suoi due specchi in cui tramonta il giorno. Ecco il cerchio sotto gli ippocastani azzurri, verso la rossa radura corre ancora e la barca di legno che serviva ai nostri giochi salpa mentre io dormo. Bisogna amare il sonno che ci restituisce il pane e il sale, la felicità dimenticata il giorno di maggio su cui c'è spugli lucenti e il bambino tra le piante di Ribes. Robert Basiak Questa lezione potrebbe questo dopo scuola parlava di della necessità di saper guardare ciò che è dissimile rispetto a ciò che siamo. Fulvio Abate dopo scuola grazie a tutti!